Sono ormai obbligatori in tutti i supermercati d'Europa, ma i sacchetti di plastica biodegradabile rispettano davvero l'ambiente secondo una ricerca britannica? Non è proprio così. Il corrispondente da Londra è Marco Varvello. Si fa presto dire biodegradabile. Persino tre anni dopo essere finito in mare o sottoterra, un sacchetto qualificato così è ancora pressoché intero, in grado di trasportare oggetti, come si vede in questa foto. Meglio si comportano le buste di materiale compostabile, scomparse nel terreno dopo 27 mesi o dissolti in acqua dopo tre mesi. Lo prova uno studio inglese condotto all'Università di Plymouth, ora pubblicato sulla rivista scientifica Environmental Science and Technology. Per la prima volta sono state studiate le condizioni e i tempi di degrado dei sacchetti della spesa, mettendo a confronto quelli tradizionali con quelli appunto definiti biodegradabili in base alle norme europee. Nessun sacchetto si è però davvero decomposto in tempi brevi, sollevando molte domande sul reale inquinamento di terreni e soprattutto delle acque. Sono risultati cruciali, preoccupanti, dice il direttore della ricerca, professor Richard Thompson. Da una parte la definizione biodegradabile rischia di essere fuorviante, dall'altra è chiaro che non bastano i materiali, occorrono tecniche di trattamento adeguate. Di per sé insomma un sacchetto buttato, anche se è biodegradabile, è comunque fonte di inquinamento duraturo. Va eliminato con procedure di riciclaggio, che includano calore, ossigeno o microorganismi per non fare danni all'ambiente.